Alle 11 di sera una ragazza afroamericana sfreccia via dalla Howard University di Washington su un monopattino e mano tiene stretta la bandiera americana. È verso quell'ora che al comitato elettorale di Kamala Harris si è smesso di ballare e si è cominciato a capire che quella che stava per arrivare era una sonora sconfitta. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 6 novembre 2024 questo è dei Time Speciale America. Racconta uno dei volontari di Harris che è andato a fare canvassing porta a porta in Pennsylvania che nella realtà è terribilmente simile a quel che finora avevano raccontato i sondaggi. Le donne aprivano la porta felici, gli uomini la sbattevano in faccia ai democratici che bussavano. Non c'è stato l'effetto donna sulle elezioni americane, non c'è stata la fiducia che Kamala Harris sperava di aver conquistato invocando dignità, umanità, buonsenso. Ha vinto Donald Trump, ha vinto Elon Musk che infatti è il primo a gioire su X sul suo giocattolo social e scrive Game Set Match. Hanno vinto gli insulti e il desiderio dell'America di isolarsi dal resto del mondo, di pensare solo ai suoi interessi. Hanno perso le minoranze che non si sono mobilitate per Kamala Harris come la sua campagna sperava. Vi ricordate avevamo parlato della parte del Michigan abitata dagli arabo-americani. Eravamo andati lì, a Dearborn, a Hamtramck. Ebbene, è andata come avevamo previsto in quel reportage. Tantissimi voti dem sono andati persi per la posizione a dir poco timida di Harris e Biden sulla guerra in Medio Oriente. Harris non ha parlato stanotte, probabilmente parlerà oggi. A un certo punto il quartiere generale è arrivata Nancy Pelosi, speaker della Camera, una degli artefici nella scelta di Harris come candidata presidente. È tempo di bilanci, un altro democratico ce l'avrebbe fatta. È improbabile. Le persone sono scontente di Biden a solo il 40% di popolarità. Harris ha pagato anche questo. L'inflazione, che pure la sua amministrazione è riuscita a raffreddare i problemi dell'economia, imputati e migranti, anche se i migranti non c'entrano nulla. Ha vinto il racconto della destra. Make America Great Again. Rendiamo l'America di nuovo grande. La battaglia per il diritto all'aborto e alla salute riproduttiva non ha mobilitato abbastanza, non ha toccato gli americani quanto la speranza regalata da Trump di avere più soldi, più sicurezza. Forse ha vinto l'illusione di poterli avere. Tutto quel che poteva andare storto per Harris è andato storto nei sette stati in bilico, anche se bisogna riconoscerle di non essersi risparmiata nella battaglia, di aver lottato fino alla fine. Adesso saranno in tanti a dire che era la candidata sbagliata, che non ce la poteva fare, che è stata una scelta fatta frettolosamente. Dopo che Biden è stato costretto a ritiro per le sue condizioni di salute, ma è improbabile che sia questa l'analisi giusta. O forse ha anche pesato tutte le interviste che abbiamo fatto in questi giorni agli scrittori americani come Colum McCann, l'ultima, come Laurie Moore e Richard Ford e ancora prima Percival Everett, tutti ci hanno detto che la misoginia e il razzismo hanno contato in questo voto. Solo che anche le persone che dovevano per provenienza e in teoria stare dalla parte di Harris non sono state dalla parte di Harris. C'è una performance molto buona di Trump tra i maschi, neri, americani, molto migliore di quella di quattro anni fa e forse addirittura anche di otto anni fa quando aveva comunque vinto nel 2016. Ci sono delle cose che non hanno funzionato. Sicuramente Harris ne parlerà oggi, il cocer della sua campagna elettorale ha annunciato che appunto non avrebbe parlato nella notte e che parlerà solo oggi, non solo per rivolgersi ai suoi sostenitori, ma ha detto alla nazione. Il fatto è che i democratici non sono andati male solo nella campagna per le presidenziali, per la presidenza degli Stati Uniti sono andati male anche al Congresso e al Senato, alla Camera e al Senato. I repubblicani hanno la maggioranza, quindi Trump si ritroverà a essere Presidente degli Stati Uniti con la maggioranza del Senato e la maggioranza della Camera. Avrà un potere assoluto di certo quello che ha cercato fin dall'inizio. Grazie a tutti.